L'immagine più significativa è quella finale, il volto sorridente di Cerino al centro del campo e i compagni di squadra che fissano il suo sguardo, quasi a volerlo accarezzare senza mollarlo un solo istante. Manca loro, manca a tutti, ruggiero Napoletano a 12 mesi esatti dalla sua scomparsa e tutti coloro i quali hanno avuto il privilegio di conoscerlo hanno voluto ricordarlo con la prima edizione del torneo intitolato alla sua memoria, andato in scena per tre giorni al Manzi Chiapolin e riservato alla categoria Under 17. L'evento è stato organizzato dalle Medaglie d'Oro Barletta in collaborazione con l'Audace Barletta, otto squadre di cui tre professionisti che si sono alternate sul sintetico barlettano nel segno di Cerino, un ragazzo innamorato del calcio, felice quando aveva un pallone tra i piedi. Mio figlio era un ragazzo stupendo, grazie a Dio dopo tanti mesi di sacrificio e di preparazione siamo riusciti. Ringrazio anche il presidente delle Medaglie d'Oro che ha collaborato con l'Audace Barletta che ha collaborato anche a degli amici stupendi che mi sono stati accanto veramente mi ha dato una grande mano. Ringrazio tutti gli sponsor che veramente senza di loro non ce l'avremmo fatta. La vittoria finale è andata agli allievi del Monopoli che hanno sconfitto nella partita conclusiva ai pari età del Biceglie. Terzi classificati, Bari e Unione Calcio Biceglie hanno preso parte al torneo anche a Audace Cerignola, Fidelisandria e uniti per Cerignola assegnati pure riconoscimenti speciali. Miglior giocatore Vincenzo Balducci del Bari, miglior numero 10 Giuseppe Venanzo delle Medaglie d'Oro, miglior canoniere premio Antonio Napoletano per Felice Petrignani dell'Unione Calcio Biceglie, miglior portiere premio Lorenzo Calabrese per Ruggero Sapri del Biceglie, premio Fair Play, Savino Acito al Monopoli. L'Audace Barletta ha presentato nell'occasione la mascotte dedicata proprio a Ruggero Napoletano Cerino 10. Era un pensiero che avevamo in mente dall'inizio della stagione, poi quando ci è arrivata notizia di questa bella manifestazione abbiamo chiesto l'autorizzazione ai genitori che sono stati entusiasti e poi alla fine abbiamo fatto un po' di lavoro. abbiamo deciso di partire dal suo nome, dal suo soprannome e quindi da oggi l'Audace ha la sua nuova mascotte. Ha lasciato una traccia indelebile ovunque Ruggerino, anche a scuola presente per volere del dirigente scolastico Antonio Catapano una delegazione dell'ITIS Fermi di Barletta. Ruggero era un'energia vivente, era un pozzo di vitalità ma soprattutto era il calcio, lui adorava il calcio, bastava anche che qualcosa andasse a terra, gli ricordava il pallone, e gli incongiati a calci subito anche in classe nell'intervallo eccetera. Quindi era un ragazzo pieno di energia che manca tutto e è mancato tantissimo alla sua classe che lo ha ricordato per tanti mesi e che continua a ricordarlo per sempre. Hanno deciso di esserci anche rappresentanti dell'Aido Barletta. Lo scorso anno Papa Massimo e mamma Annunzia con un gesto di grande cuore hanno autorizzato la donazione degli organi di Ruggerino. È un gesto di estremo amore verso il prossimo, considerando che è un momento particolarmente triste per la famiglia, però ha vinto l'amore per gli altri, quindi la possibilità di dare a tanti ragazzini una vita normale. Quest'anno è proprio un anno molto positivo per l'Aido di Barletta perché ci sono stati molti, molti prelievi e questo diciamo un grazie a tutti coloro che hanno dato la possibilità di fare questi prelievi. Oggi è Saruggero, Cerino, nel giorno del suono mastico sarà orgoglioso di tutti, dei suoi genitori, delle sue due sorelle, del piccolo Francesco suo fratello e dei suoi amici dall'alto avrà certamente gradito ed esibito il suo inimitabile sorriso.